Non in un giornale trovo poco utile dare spazio a esercizi di stile di un bartender che vuole solo immagine. Io devo dare consigli, devo ispirare, mi servono dei buoni modelli. Sinceramente io preferisco quindi chi è l'imprenditore e il bartender che lavora in brigata. Eccoci qua ragazzi, nuovo episodio Podcast del Bartender. Io sono Carmine Liguori, se non mi conoscete, ciao. Prima cosa che vi ricordo, come sempre, ricordatevi. C'è questo riquadro qua bellissimo che il nostro Alex ha preparato in cui vi ricordo di seguirci su Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, ovunque. Si può mettere mi piace, ovunque si può commentare, ovunque si può condividere, ovunque si può mettere anche una recensione se volete. Grazie se lo fate, grazie se non lo fate, va bene lo stesso, basta che ascoltate o guardate o entrambi, quello che volete. Detto questo, entriamo direttamente nell'episodio. Oggi abbiamo un ospite un po' diverso dal solito, abbiamo già fatto qualche ospite che un po' ci somigliava, però abbiamo un ospite diverso dal solito. Rossella, grazie mille di essere qua, non mi lasciare con la mano così. No, scusami. Rossella, grazie mille di essere qua. Intanto Rossella è l'autrice del coronamento di uno dei miei più grandi sogni, quindi grazie mille Rossella, prima partiamo da questo. L'episodio parte in cui faccio una domanda secca, in cui mi viene risposta in modo sintetico, poi partiamo da domanda. Tu, chi sei e cosa fai? Allora, sono la direttrice di Mixer, sono un'appassionata del nostro mondo, i sistemi. Perfetto. Un'appassionata del mondo fuori casa da 30 anni. Così abbiamo svelato subito anche l'età e togliamo ogni dubbio. Allora, dimmi un po', quindi fai la giornalista? Sì. Dimmi un po' come hai iniziato questo mestiere, l'hai iniziato già nel mondo del bar? Poi ho paura che l'audio non... Ok, perfetto, così. Sì, io ho scelto questo settore. Da subito? Da subito, avevo 28 anni. Sono andata dal mio primo direttore, Alberto Schieppati, che salutiamo. Ciao Alberto. E con l'incoscienza o la presunzione di un ragazzo giovane, ho detto io voglio venire qui, voglio vedere come si lavora in una redazione, però in una redazione che si occupa di bar, ristoranti, alberghi, perché a me piaceva tanto. Io con il mio fidanzato, oggi marito, i viaggi che facevo erano nei ristoranti stellati, siamo andati da Iaccarino a 19 anni e speso allora 800 mila lire, però per me era il mio sogno. Era come adesso 800 euro. Esatto, a me piaceva. Quindi ho iniziato così, collaborando ovviamente, prima e poi piano piano sono entrati in redazione e ho fatto quello che tanti giovani oggi forse non possono più fare, perché entrare in una redazione, lavorare in una redazione è diventato difficile. E allora molti lavorano sui blog, lavorano sui siti online, ma il lavoro in redazione è meraviglioso. È meraviglioso perché vedi nascere un giornale, lo crei, lo fai, è bellissimo. E dimmi un po', questa è una domanda che faccio sempre ai bartender, hai avuto qualcuno che ti ha ispirato? Che ti ha, nel senso, hai visto qualcuno lavorare, hai visto qualcosa e hai detto voglio diventare così? Allora, sicuramente ho avuto dei maestri, i vari direttori, lo stesso Antonio Mungai, mi hanno fatto penare, no? Per stare in piedi la notte pur di arrivare a quello che volevano. Poi, sai, la scrittura è tua, è personale, ma come il mondo del bartending, ognuno deve avere il proprio stile. Poi puoi imparare, io credo che la cosa più importante, ancora oggi, ogni persona che io incontro, cerco di imparare qualcosa, ogni persona può darmi qualcosa. Quindi, sì, i maestri del giornalismo, i maestri che ho avuto nella vita quotidiana, ma poi soprattutto stare a contatto con le persone e cercare di capire da ognuno che cosa è importante che apprende. Allora, io... Vieni anche da te oggi, io cerco di imparare qualcosa, eh. Ok, spero che sia qualcosa di interessante. Detto questo, io avevo fatto proprio, penso, poco più di un anno fa, un episodio con i ragazzi di Bar Giornale, per i quali tu hai lavorato per tanti anni, per tanti anni... Che salutiamo anche, che salutiamo. Immagino che poi, adesso mi racconterai anche, mi racconterai un po' il tuo percorso. E poi dopo io volevo fare un episodio con Mixer, però non trovavo, non sapevo dire chi posso chiamare di Mixer, no? E non trovo. Poi dopo, poi ho conosciuto te da quando ci sei, quando sei arrivata... A Mixer. Quando sei approdata Mixer, abbiamo avuto la possibilità di conoscerci. Cioè, ti faccio una mia, cioè, una mia visione che è da fuori, del mondo di questi due, di queste due, di queste due testate, di questi due giornali. Quello che mi... cioè, l'impressione che ho sempre avuto io è quella di... Cioè, lo dico non per, non per, non per dire una cosa buona a tua, di Mixer, o non per dire una cosa buona a Di Bar Giornale, è uguale non per dire cose negative. Proprio la mia, la mia impressione. Ok. È quella di che, è quella che Mixer, cioè, Bar Giornale mi è sembrata un... Cioè, Bar Giornale mi sembra il quotid... cioè, mi sembra il giornale che trovi nel bar dove c'è il bancone stile da caffè, capito? Che fa anche i drink, però mi sembra più il giornale che c'è dentro un bar che fa un po' tutto. Ok. Mixer, invece, mi dà l'impressione di essere il giornale che è nel cocktail bar. Allora. Capito. In realtà non è così. Allora... Questa è la mia percezione. Lo raccontiamo ai nostri lettori che magari non mi conoscono. Io sono stata per dieci anni il direttore di Bar Giornale. E adesso sono la direttrice di Mixer. Quindi conosco entrambe le realtà. Non parlo di Bar Giornale, perché non ci sono, quindi... Ok. Posso raccontarti Mixer e quello che sarà il nuovo Mixer, perché io sono arrivata a Mixer a novembre e ho iniziato un percorso nuovo su Mixer. Ti dà l'idea dei cocktail bar nel nome, no? Mixer è un nome più vicino al mondo dei cocktail bar. In realtà Mixer fa... È molto trasversale. Il target va dai cocktail bar, le caffetterie, alla ristorazione, perché è l'organo distanto anche della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Quindi copriamo l'intero mondo. Quello che ho fatto da quando sono arrivata a Mixer è identificare quelli che sono gli interessi dei bartender, gli interessi dei baristi, quindi di chi è più vicino al mondo del caffè, gli interessi invece delle catene di ristorazione, di chi ha una cucina, per tarare i contenuti su di loro. Quindi avrete un mixer, tanti piccoli mixer all'interno di un'unica rivista, con contenuti verticali che possono interessare. Poi le due testate sono due testate storiche, quindi è giusto che ci sia una sana, sanissima concorrenza. Io adoro i ragazzi di Barginal, ci ho lavorato vent'anni, scusate. e adesso lavoro per un'altra testata che segue un suo percorso. Però ti dico di più, secondo me ci sono tantissime testate oggi che fanno benissimo il loro lavoro, e cito Spirito Autotono, piuttosto che Bar Tales. Spirito Autotono ce l'avete fatto qua. Ne ho visto un po' più in giro, ok? Quindi salutiamo anche loro, perché secondo me è giusto che si faccia anche sistema tra di noi e cerchi di dare autorevolezza a delle testate che fanno il loro lavoro seriamente, che sono sul campo ogni giorno, piuttosto che andare dietro a fake, notizie fake o il primo che si inventa un po' questo mestiere. Adesso dicendomi questa cosa qua mi vien da chiederti una cosa. Allora, io conosco Bar Giornale, conosco Mixer, ho avuto Gian Maria che a Mixerology Experience mi ha presentato, mi ha raccontato Spirito Autotono. Mi manca soltanto Bar Tales che lo conosco perché conosco Fabio Bacchi, personalmente ci siamo giusto scambiati due parole, però mi piacerebbe anche fare un episodio con lui, però Bar Tales in sé non la conosco tanto e mi piacerebbe poi parlarne con lui. Però ti piace il lavoro che fa Spirito Autotono? Sì. Che mi ha raccontato Gian Maria e ha detto è una cosa... A me piace perché ognuno di noi ha una sua specificità e fin quando ognuno di noi ha una sua specificità diamo completezza di informazione a voi. Non mi piace quando invece si cerca di copiarsi a vicenda, quello non serve a nessuno. Io sono dell'idea che quando, soprattutto nella stampa professionale, come si chiama in gergo, cioè la stampa che va a degli imprenditori, bisogna essere seri. Cioè non dovete perdere tempo a leggere Mixer e quindi ritrovare su Mixer le stesse notizie che magari potete leggere su un altro giornale. Ogni giornale deve avere la sua identità e le testate che ho citato fanno questa cosa. Cercano le notizie e leggere Mixer e poi Bar Giornale, poi Spirito Autotono e poi Bar Tales può dare una vastità di informazioni. Poi sta a ciascuno di noi, prendere quello che vuole, essere più o meno d'accordo con un giornalista piuttosto che un altro. Perché mi viene in mente, io avevo, mi ricordo quando ero bambino e andavo al mare, che parlo di tanti anni fa, adesso si fa col telefono, però una volta tipo i signori, quelli che volevano capire bene le cose che succedevano, compravano vari giornali. Esatto. Perché c'erano gli stessi argomenti però visti da punti di vista diversi. O da punti di vista diversi. Perché io mi ricordo in spiaggia, fanno, no questo è di sinistra, no quello è di destra, voglio capire, capito? Assolutamente questo, questo è il bello, questo è il bello. Quindi pur trattando magari, facciamo il caso, una competizione, siamo un po' tutti lì a guardare, osservare la competizione. Qual è il bello? Che ciascuno di noi ha il suo punto di osservazione e sui giornali deve venire fuori questa cosa. E allora tu apri un mondo al bartender che ti legge, al barista che ti legge, all'imprenditore che ti legge. Una cosa che ti volevo dire, però te la volevo dire di persona, quando tu mi hai mandato l'anteprima di quello che avresti scritto su di me, di quello che ci eravamo detti, io l'ho inoltrato a un paio di persone che venivano citate. Ho detto spero ti faccia piacere, che non sia un problema, che... E Don Ono, Edoardo, mi ha risposto e mi ha detto che si vedeva che c'era la tua mano. La Rossella è molto brava, si vede che c'è la sua mano dietro... Allora ringrazio anche Edoardo. E qui mi ha fatto tenere in mente una cosa che riguarda me, nel senso che crescendo io non... Cioè tipo io ho fatto scuola elementare a tempo pieno, in cui si esce alle 5 del pomeriggio, e poi dopo dalle scuole medie sono, diciamo, cambiato e diciamo che la scuola non è più stata una cosa... Cioè lo studio non l'ho più affrontato, almeno che non era una cosa che mi interessasse. Perciò diciamo, uno che... Io a studiare nella mia vita seriamente, in tutto ho studiato solo agli elementari, però ho avuto una maestra, ai tempi erano ancora maestre, quella di italiano, che era molto... Cioè era molto ferrea, molto... Predirigeva che fossimo bravi nei verbi, a scrivere e cose varie. E a me crescendo mi è capitato spesso che mi è stato detto che ero bravo a scrivere o che scrivevo bene o che non sbagliavo a parlare in italiano e cose varie. Dico io però non ho mai studiato. Io soltanto ho avuto però all'elementari questa maestra, la maestra Luisa, che martellava, martellava, ma poi dico ma può essere che avendo studiato solo all'elementari, l'italiano come scrivere, mi abbia comunque fatto... Dato questa impronta una... Sì, poi ognuno di noi ha dei talenti. Diciamo, magari tu leggi tanto, leggi tanti libri, quindi tutto quello ti rimane impresso. E comunque il giornalista non è di per sé la persona laureata in lettere. Scrivere un articolo non è la stessa cosa di scrivere bene. Eh sì, perché io guardo quello che ci siamo detti io e te. Abbiamo parlato di tantissime cose, cioè non è che abbiamo seguito un filo. Tu ogni tanto mi facevi delle domande e poi divagavamo in cose. Esatto. E tu hai preso tutto quello che ci siamo detti e l'hai fatto diventare un discorso che fila con l'inizio e una fine. Capitete? Però questa cosa qua non mi sembra, almeno dal mio punto di vista, non mi sembra molto facile. No, non è facilissimo. Adesso non peraltro per le persone che ci ascoltano. Ci vuole un po' di... Sicuramente tanto mestiere. ma anche una sensibilità del giornalista. Noi abbiamo parlato di tante cose, ma più che altro perché quando fai un'intervista, adesso oggi a parte invertite quindi mi trovo un po' a disagio. Adesso non perdere il filo, però in tanti tipo mi è capitato di parlare con delle aziende e nell'azienda c'è scritto il giornalista Carmine Liguori, il podcast faccio no, io faccio barman e sono un bartender, se vuoi possiamo mettere che faccio flair, però non mi ne è giornalista. Io sono qua e chiacchieriamo, perciò non so... Devi cercare di capire anche la sensibilità della persona, quei valori in cui crede, per poi trasferirli in un pezzo, se no sarebbe facile. Registro l'intervista, sbobino come si diceva vent'anni fa quando c'erano le cassette, trascrivo l'intervista, ta, l'articolo è fatto. No, io credo che in ogni pezzo debba esserci del tuo, ma soprattutto debba venire fuori quello, la persona che stai raccontando, quello in cui crede, i valori in cui crede. Quindi lì ci vuole un pochino... Ecco perché ti dico, scrivere un articolo non è la stessa cosa di scrivere bene. Così come scrivere un libro è un'altra cosa ancora. Una cosa che mi interessava, ovviamente sia Mixer che Bar Giornale dove lavoravi prima sono testate che non sono nate ieri, non sono nate l'altro ieri. Cioè tu hai lavorato vent'anni a Bar Giornale? Ho lavorato venticinque anni a Bar Giornale. Bar Giornale è nata nel 1979 e Mixer nel 1986. Ok, quindi tu hai iniziato anni novanta quindi con Bar Giornale. Ci stai facendo i conti? No, non sull'età, mi sto facendo i conti su come funzionavano le informazioni, capito? Ah, era una cosa completamente diversa. Cioè nel senso adesso... Pensa non c'era internet. Questo, questo, mi piacerebbe raccontare questa parte qua nel senso che, vabbè, a parte che un contenuto come me non esisteva proprio. Assolutamente, neanche eri immaginabile. E perciò dico, adesso le informazioni le trovi facendoti un giro su Instagram, vedendo le cose che vanno di più, sentendo magari persone che fanno parte della mia, dici secondo te che cosa c'è di interessante e trovi grossomodo le informazioni stando seduta in ufficio o girando relativamente poco. In quegli anni lì invece come ci si muoveva e come trovavi e cercavi cose? Allora, il come in realtà non è cambiato, perché oggi c'è accesso alle informazioni grazie alla rete, grazie a internet, mettiamoci anche in intelligenza artificiale tutto quello che vuoi. però non cambia il modo, cioè comunque l'informazione non viene, non deve venire da un comunicato stampa o da una notizia che leggi su Instagram e la riporti sul giornale. Sono le tue fonti, no? Quindi si va alle fonti, si cerca di intervistare i bartender, si cerca di chiacchierare con voi al bar piuttosto che... Ma siamo al bar? Assolutamente sì, bellissimo oltretutto. Grazie. Quindi è il rapporto con le persone che ti dà la notizia. Magari da queste chiacchiere viene fuori, ah sai che sta aprendo questo locale, allora lo chiami, dici ma allora stai aprendo... questo è fare giornalismo. Se il giornalismo fosse... Ah, c'è questa notizia, questo comunicato stampa, aspetta che me lo copio in collo sul computer e lo metto sul sito, allora non facciamo il nostro mestiere, facciamo un'altra cosa. Ecco perché ci tenevo a citare le testate che ti ho citato. Ok. E invece il passaggio al mondo dei social, che ho visto... Immagino che la copia digitale non sia sempre esistita. Prima siamo passati da copia fisica e poi siamo passati anche a fare la copia digitale. Non è stato facilissimo, perché all'inizio c'era anche un po' di confusione. Quindi che cosa facciamo? Mettiamo sul sito gli articoli della rivista, quindi c'erano dei siti che avevano gli articoli della rivista, che è sbagliato, no? Perché devi avere una strategia editoriale che diversifichi i metri, ma anche perché tu non vai sul sito per leggerti l'approfondimento sul gym. Quello te lo puoi leggere sulla carta, sul sito vuoi notizie fresche, quello che sta succedendo. Però all'inizio non è stato facile, cioè moltissime testate, non parlo solo della stampa professionale, ma anche i quotidiani, no? Non sapevamo bene come prendere questa cosa della rete e quindi sono stati fatti tutta una serie di tentativi. Diciamo che adesso, negli ultimi dieci anni, si sta configurando un po' una strategia editoriale comune, e quindi di differenziare i contenuti della carta dall'online. Addirittura c'è chi ha preso la strada, quotidiani in primis, di far pagare le notizie. Perché è giusto, cioè c'è un lavoro dietro e deve passare il concetto che non è tutto proprio così facile. sennò abbiamo sbagliato tutto. Perché è una cosa che nel tempo io ho capito. Io sono sempre, vabbè, si vede, mi hai conosciuto, io sono un grande sostenitore del nuovo, del futuro, dell'aggiornarsi e queste cose qua. Però nel tempo ho anche capito che ci sono alcune cose che non potranno mai essere sostituite. Tipo la radio è stato il primo modo di comunicare, ok? Arrivata la televisione, ovviamente la radio è scesa, però non è sparita la radio. Certo. È arrivato il digitale, è abbassata la televisione, però non è sparita la televisione, capito? Perciò secondo me tra 30 anni non è che sparisce la radio, sparisce la tv e ci saranno solo i social, capito? È uguale, è uguale. Io ero il primo a dire tra due anni non ci saranno più i giornali fisici, tra due anni non ci sarà più la gazzetta dello sport. Non è vero, non è vero se tu hai in testa questa cosa di separare, differenziare le notizie. Certo, non avrebbero avuto senso oggi dei giornali cartacei come i nostri se non avessimo fatto il pensiero a molte guardate che non funziona ripetere sul sito le stesse cose perché se no non ha più senso fare un cartaceo. Quella rivista con te in copertina te la tieni, è una cosa che ti rimane a vita. sull'online si perpetua, però lo perdi nel mare magnum delle notizie. Quindi, secondo me, ci sarà sicuramente una riduzione delle riviste cartacee ma quelle che hanno scelto di differenziare i contenuti e fanno un lavoro serio continueranno. Poi con altri mezzi, perché oggi, io prima ho citato l'intelligenza artificiale ci sta dando delle prospettive diverse in ogni campo. Ecco, l'intelligenza artificiale non può sostituire il bartender nel fare la ricetta e non può sostituire il giornalista nello scrivere l'articolo però ti dà l'opportunità di avere tantissimi spunti diversi nel campo delle illustrazioni ti può aiutare quindi ci sono... È un buon supporto. È un buon supporto, non sostitutivo ma nel niente può essere interpretato in questo modo. Però è l'approccio che io mi sto interessando tantissimo dell'intelligenza artificiale perché, secondo me, dobbiamo sempre guardare avanti, no? Anche io la sto utilizzando tantissimo dopo mesi e mesi adesso non l'hai visto perché penso che stia dormendo o è andato all'università c'è mio fratello nella stanza di là e lui sono quasi anni che mi dice di usarla perché lui studia grafica perciò... E io ho iniziato a usarla molto dopo che lui me l'ha consigliata però sì, è un supporto molto interessante. Che va guidato va guidato dalle competenze tue perché poi apprende ma deve insegnare, no? Quindi è un percorso lungo. Allora, ci siamo incontrati e ci siamo visti a Mixology Experience. Sì. Ho visto nel palinsesto perché io dovevo organizzarmi per intervistare varie persone e ho visto gli argomenti che venivano trattate e cose varie e ho visto, se non mi ricordo male che avete fatto anche un... trattavate gli argomenti del... dell'inclusione dell'inclusività ecco sì sì, il mio... era un talk show le parole dell'inclusione che ho fatto con... ho invitato degli ospiti pazzeschi da Valentina Piccabianchi Bruno Vanzan Terry Morro Luca Wu Angelo Donnalloy al presidente dell'Ipes Sono stati fantastici perché abbiamo parlato di come valorizzare le differenze adesso io sono donna quindi tutti pensano ha parlato delle donne al bar no abbiamo parlato di differenze di genere di differenze di etnia Sai chi sarebbe stato perfetto per quel talk show? Milo Occhipinti Ma Milo non piace tantissimo essere super... però Milo sì sicuramente è anche questo tipo di... Mentre andavo in bagno lì a Mixology Spirits ho incrociato un ragazzo che usciva io stavo entrando mi fa Carmine sono stato sono stato danzino in bar è una bomba bellissimo è pazzesco no veramente non mi sembrava di entrare in un bar ma gliel'hai detto a Milo che sei andato dopo che hai visto l'episodio ma sì sì no no sì allora il tema dell'inclusione è un tema a cui tengo molto e infatti ho lanciato con Danilo Bellucci che è un personaggio storico del nostro mondo è un progetto posso farmi lo spot pubblicitario? puoi fare tutto quello che vuoi è un progetto che si chiama WISH che è Women's Industry and Sustainable Hospitality perché io credo che bisogna insistere moltissimo su questo discorso è un'ospitalità nuova un'ospitalità dove uomini e donne abbiano parità di diritti pari dignità dove il bar sia anche un luogo di accoglienza io durante Mixology Experience ho lanciato un video che era un video fatto per la giornata mondiale della sindrome di Down che è stata il 21 marzo ok durante la Mixology no non durante la Mixology no un paio di giorni fa un paio di giorni fa sì 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 appena dopo Mixology dove una ragazza con questo tipo di patologia raccontava la sua vita no? dicendo tutti pensano che io non posso bere un margarita non posso studiare Shakespeare non posso fare sesso ma io posso è fortissimo io invito tutti ad andarla a vedere assume that I can perché cambia un po' le prospettive tutti noi ci facciamo determinate aspettative sulle persone che abbiamo di fronte e dobbiamo cambiarla questa cosa io questo cambiamento l'ho fatto quando andavo ancora alle superiori nel senso che anche a mio discapito nel senso che mi ricordo del fatto che mi scontravo con le persone dicevo perché devo trattare in modo diverso cioè dico un disabile ok io se fossi un disabile e vedo te che inizi a parlarmi come quando vedi un cagnolino ok a me darebbe fastidio perché devo parlare perché devo comportarmi con lui in un modo di... perché se lui fa una cosa sbagliata devo prendermela con lui in un modo diverso da come me la prenderei con te capito? e quindi mi ricordo che il mio modo di trattare tutti nello stesso modo ai tempi mi portava un po' di problemi nelle relazioni sociali e beh però deve essere così cioè dobbiamo imparare a non avere preconcetti a non avere... ti racconto un mio episodio io iniziato te l'ho detto quando avevo 28 anni quindi ero piuttosto giovane e quando andavo alle conferenze stampa perché poi da Burba mi mandavano nei posti sperduti dell'Italia allora mi faceva accompagnare dal marito e arrivavamo l'atteggiamento qual era? parlo con il signore perché è la compagnatrice che cozzalone quando entra nell'ufficio del... sì che va direttore da lui esatto e pensavo fosse la segretaria è certo ero l'accompagnatrice e ogni volta assistevo a questa scena in cui mio marito è divertito meno dopo un po' gli dice sì però la giornalista è lei non dovete parlare con me la giornalista è lei dopo 25 anni è cambiato? non sono sicura che sia cambiato secondo me dobbiamo fare un passo avanti proprio culturale come paese e io nel mio piccolo voglio portare avanti questo messaggio quindi l'ho fatto a Mixology perché lo ritenevo importante l'ho fatto con persone che hanno portato degli esempi incredibili tra l'altro Bruno non me ne ha parlato a me del fatto della postazione hai ascoltato la storia? no non ho ascoltato la storia però gli ho chiesto se voleva venire al podcast che facevo lì per Red Bull e parlarmi della struttura nuova e oltre che della struttura nuova ma ha parlato di questa postazione pazzesco della postazione va bene una postazione per persone con disabilità perché il tutto è nato da un fan di Bruno che voleva conoscere Bruno Van Zand hanno fatto una serata per raccogliere fondi per questo ragazzo e durante la serata Bruno si è reso conto che lui aveva delle difficoltà perché sulla sedia a rotelle aveva delle difficoltà a arrivare al banco quindi lì per lì si sono organizzati con una plancia in modo che fossero alla stessa altezza e Bruno da lì ha iniziato a pensare una postazione anche per persone con disabilità sono passaggi importanti che bisogna fare e io lì ho collegato subito la cosa a un ragazzo che probabilmente ascolta anche il podcast che è un mio corsista ha fatto penso tre corsi con me sì tre corsi personalizzati con me nel senso che eravamo solo io e lui e bravissimo non è un ragazzo con disabilità è soltanto molto basso però basso cioè ha un'altezza bassa che è proprio problematica per il lavoro capito e mi ricordo io ho fatto tanti anni lavorando a Jesolo al Vanilla che per tanto tempo è stato proprio il punto dove un bartender che fa flair vuole arrivare ho capito per tanto tempo è stato quello il Vanilla aveva queste immagini appunto per le persone che c'erano e io sapevo che lui voleva venire ok sapevo che lui ambiva a queste cose sia per come era fatto lui sia per le abilità tecniche sarebbe sempre dato benissimo però sapevo che se lo avessi proposto dopo cioè non mi sarebbe stato detto di no perché è troppo basso mi sarebbe stato detto di no perché ci sarebbero stati degli evidenti problemi sul lavoro capito e a me però questa cosa mi faceva piangere il cuore certo dico non gliel'ho mai proposto perché so che dopo sarebbe una cosa problematica però dico come si ovviamente l'ho lasciato perdere però lì per lì poi parlando con Bruno di sta cosa a me piangeva il cuore però come potevo portarmelo dietro sapendo che poi avremmo avuto dei problemi capito? no no è così io ho voluto portare sul palco queste persone che hanno raccontato nel loro piccolo hanno fatto delle cose poi Bruno l'ha fatta in grande delle cose che possono aiutare aiutare l'intero nostro settore a essere avanti un'ospitalità che non guarda nessuno con diffidenza un'ospitalità dove tutti si sentono inclusi poi ragionando sulla parola inclusione quando tu dici inclusione già sei tu che stai escludendo qualcuno è inutile attorcigliarsi su queste cose l'importante è fare in modo di accogliere tutti e che venga fuori questa cultura poi il bar il bar questo è il ruolo del bar è sempre stato questo è sempre stato questo quindi diamo tutti un po' il buon esempio e spesso questa parte qua a me interessava molto parlarne appunto perché poi a Mixology Experience ci siamo incrociati e non cioè ci siamo giusto salutati poi nelle fiere ci si saluta si inizia a parlare poi parli con un altro ti ferma poi ti saluti chiunque quindi non si riesce mai a finire a finire un discorso pensi nel senso avete avete fatto questa cosa qua dell'inclusione mi interessava hai parlato con Bruno Angelo Terry Moreau Terry ok e Luca U e Luca ok che ne non conosco Luca U è un imprenditore di riferimento a Milano lui ha Bob Percento Lab Chinese Box ah no sì l'ho sentito l'altro giorno sì l'ho sentito l'altro giorno ed è vicepresidente dell'UNIC che è quest'unione imprenditori cinesi di seconda generazione proprio perché ha portato la sua esperienza di quanto lavoro è stato fatto per integrare la comunità cinese a Milano mi ha raccontato di quello che hanno fatto perché via Paolo Sarpi diventasse quella che oggi che se tu vai a un gioiellino perché poi se no il discorso rimane sempre uomini e donne no i discorsi sono tanti le differenze sono tante e uomini e donne e razza lui The Chinese Box ha 35 persone di 10 etnie diverse tanto di cappello perché poi fa ragionare insieme mette insieme culture diverse no e quindi devi avere anche la capacità di comprendere gli altri tutti quanti avevano cioè tipo anche Terry immagino che Terry ha parlato di cosa ha parlato Terry è una donna fortissima e di questo ha parlato cioè alla fine il discorso e giustamente siamo arrivati a dire questo è un lavoro che si fa con passione che dove serve la competenza dove forse non c'è differenza di genere no io mi ricordo all'inizio quando si parlava delle bartender no hanno un tocco delicato le decorazioni sono più eleganti no cioè un bartender non è quello e per inciso abbiamo chiarito che è inutile parlare di parledi o di baruman l'italiano la parola barista è una parola ambigenere quindi si può usare la barista e il barista è la grammatica italiana che ce lo consente quindi abbiamo tolto da mezzo la parola barledi o baruman per tutti Terry la vede un personaggio di quelli che nonostante lo faccia da tanto tempo è sempre disposto a stare in prima linea è sempre disposto a mettereci la faccia è sempre disposto a parlare lei per prima a essere lei comunque sempre sul pezzo sì assolutamente così non l'hai ancora invitata l'ho fatta nella prima nella prima stagione però siamo d'accordo che tornerà perché un'altra cosa che una piccola critica che mi viene mossa da un po' da un po' di utenti è che faccio poche donne vedi però io quello che rispondo quello che dico sempre mi capita anche di ricevere messaggi tipo sui social mi dicono a quelli del sud non li inviti dico no non è che a quelli del sud non li inviti io li invito però se mi costa 200 euro 200 euro ogni persona 200-300 euro ogni persona soltanto di viaggio perché poi gli ospiti mi fanno sempre piacere di venire a titolo gratuito però se mi costa il viaggio poi dopo non ci sto dentro con le spese perciò sì piano piano comunque cerco di fare sia più donne sia più ospiti del sud e cose varie però sulle donne non è che non le voglio fare infatti adesso ho tipo 18 episodi da caricare registrati e non caricati in cui ho fatto anche tante ragazze è venuta è venuta la Favarone è venuta Elena di Bevande Futuriste Elena Cesccelli sì no perché mi ricordo che ha detto non futuristiche futuriste non mi ricordo se era al contrario che ci tiene a puntualizzare perciò le donne le faccio e le voglio fare però magari prima cosa materialmente sono di meno nel nostro ambiente però poi vorrei voglio anche portare voglio anche mettere a loro agio le persone che sono qua capito sì allora siamo di meno ma non così poche però il fatto di invitare le donne ti prego non come cosa le quote rosa del podcast perché poi anche a me quello interessa capito le quote rosa non esiste più cioè bisogna avere l'idea di affrontare il tuo ospite che sia uomo o donna non con la cosa oddio adesso devo mettere una donna nella puntata se no tutti dicono che chiamo solo gli uomini e infatti quello che mi trovo a parlare infatti dico che poi mi aveva fatto l'appunto proprio Elena mi fa almeno non abbiamo parlato del luogo comune delle donne o che ho fatto l'ospite donne no lo faccio cioè mi richiedono le donne ma a me la storia di bevande futuriste mi interessava lo stesso è certo non è che ti ho chiamato perché sei donna è questo questo deve essere semmai poi ti invitiamo ufficialmente quando ci saranno gli incontri di Wish volentieri che saranno itineranti per l'Italia così hai prendi due piccioni con una fala le donne e il sud e il sud perfetto ok e ok abbiamo ancora tempo detto questo mi interessa tu hai vissuto anche la parte in cui cioè hai vissuto tanti cambiamenti di quest'ambiente hai vissuto tanti personaggi mi ricordo una cosa sembra che voglio citare sempre Dononu però è un esempio è un esempio che è una cosa che mi hai detto tu perché quando ci siamo visti per la mia intervista io ti ho fatto un appunto di una cosa di un'analisi che ho fatto io dico ma è possibile che un personaggio come Donono ha bisogno di me per essere conosciuto nell'ambiente di oggi per i bartender dico ovviamente no però la sua storia io non l'ho trovata da nessuna parte e tu mi hai detto io ho detto la sua storia lui però non l'ha mai raccontata e tu mi hai detto non l'ha mai raccontata oggi esatto no ci sono tantissimi personaggi che di cui abbiamo perso la memoria Carmine e e questo forse è anche colpa nostra dei giornali no quindi faccio il mia colpa io penso a un personaggio su tutti a cui tu mi hai chiesto prima a chi mi ha respirato c'è un personaggio che si chiama Franco Zingales lo zio per chi lo conosceva il primo mio caporedattore è stato lui che mi ha fatto conoscere il mondo dei cocktail lui ha fatto le prime competizioni quando non c'era internet quando non c'erano tutti questi concorsi e lui quando era in redazione nel suo ufficio era lì che si raccoglieva tutte le ricette nei quadernetti non c'erano tutte le tecnologie che ci sono oggi che era capace di chiamare bartender dopo bartender e dirmi forse la ricetta la devi sistemare in questo modo ci sono dei personaggi che hanno fatto la storia del nostro mondo e che non dobbiamo dimenticarci Edoardo Nono vent'anni di Rita l'abbiamo festeggiato insieme l'anno scorso ma ci sono altri tantissimi locali che hanno fatto hanno visto il cambiamento negli ultimi dieci anni hanno cavalcato questo cambiamento e vissuto questo cambiamento il nostro mondo è un mondo che tende a dimenticarsi tende un po' a innamorarsi delle mode è diventato estremo io ci sono dentro dal 2008 2009 però dico che ho iniziato ne parlavo proprio l'ultima volta off live con un ospite che ho avuto del fatto che rimpiango i miei primi anni da bartender perché conosciuto il Flair mi ci sono buttato a capofitto e quindi se non lavoravo ero in una stanza ad allenarmi e non conoscevo il mondo e non conoscevo quest'ambiente per me quest'ambiente era locale in cui lavoro faccio drink ad alto volume perciò anche contatto con i clienti c'era però non molto e poi in una sala ad allenarmi perciò in quegli anni lì mi sono tipo dal 2009 al 2011 12 alla fine il mio contatto era quello i drink che facevo erano quelli e la conoscenza che avevo era quella legata ai corsi base perciò rimpiango un po' quello però nell'aggiornarmi poi crescendo visto che è un mondo che più passano gli anni più diventa veloce ok esatto secondo me ricordare chi ha fatto la storia del bar ma non tanto come omaggio perché ripercorrere quello che hanno fatto può servire a noi per imparare può servire a noi a correggerci quindi andare a rivedere consigli l'evoluzione che ha fatto un determinato bar negli anni può servire a un giovane come esempio come esempio poi nulla toglie che il mondo va avanti che vengono fuori ogni giorno nuovi talenti nuovi personaggi come riferimento nessuno toglie il merito a chi c'è adesso però non dimentichiamoci di chi ha fatto poi la storia del bar negli ultimi dieci anni ma penso anche a Marco Ranocchia adesso mi devo costringo a citare tutti perché non voglio offendere nessuno ti volevo fare proprio l'esempio di Marco Ranocchia nel senso che tipo io vedi ragazzi che fanno flare oggi ok non per dargli colpe dico soltanto di com'è i ragazzi che fanno flare oggi che sono super felice anzi adesso ne dito ho i brividi dietro la schiena che io tipo metto un video dove io faccio dove io nel 2017 ero in allenamento diciamo all'allenamento quando la cosa era estrema quando io avevo un livello estremo e un ragazzo mi dice cavolo sarebbe bello rivederti fare certe cose e oppure vedere e poi dopo nel chiacchierare dici tu sei sempre stato un riferimento da quando sono partito per me tu sei stato il primo di qua e di là e poi magari però certi ragazzi non sanno che il il metodo di lavoro con i metal pur facendo più drink divertendo cose varie in Italia l'ha portato Marco Lanocchia capito in Italia cioè il planet one è stata c'è tipo se tu un ragazzo che fa un mio corso personalizzato adesso che dice voglio fare le competizioni che comunque sono poche è diventato una nicchia sempre più piccola quello lì da competizione un ragazzo di quelli e ti dice magari che i suoi punti di riferimento sono io Giorgio Pacchinetti Giorgio Chiarello Lorenzo Ferranati ce ne sono tantissimi però loro non sanno che tutto è partito da planet one in Italia per poi crescere ok e magari gli chiedi planet one non sanno neanche che cos'è quando io ho iniziato che non è 50 anni fa ho iniziato nel 2009 planet one per me io non ho fatto i corsi a planet one perché costavano troppo io non me li potevo permettere perché io ho iniziato a fare questo mestiere che già vivevo da solo perciò il corso di planet per me costava troppo purtroppo però mi ricordo del fatto che avere quegli attestati del corso base avanzato e competition vuol dire che veramente eri eri il top capito e in questo modo qua anche io mi ritrovo dicendo tipo ho fatto ho registrato l'episodio con Marco Ranocchia che io sono super super gasato e mi dice è un ragazzo magari un po' biglione fa chi è Marco Ranocchia come chi è capito eh sì però ascoltare diciamo tanto Marco è un amico i vecchi serve a imparare serve insomma bisogna avere in mano la storia in testa bene le nozioni per poi andare avanti mi ha fatto anche un discorso molto interessante proprio Marco a Mixology Experience nel parlare io una cosa di cui parlo sempre che mi piace interfacciarmi e più che altro ascoltare quello che pensano gli ospiti è del come creare gruppo come far come far andare avanti un un gruppo che sia di un locale in modo sano divertente che si trovino bene che abbiano il piacere di lavorare insieme e che poi insieme si arrivi al risultato e Marco mi ha fatto mi ha fatto l'esempio e mi dice un gruppo ha bisogno anche di persone cioè tipo si è messo lui come esempio mi fa se metti me a guidare un gruppo di ragazzi di vent'anni che mi vedono come un dinosauro capito è stato lui per dire così nonostante io le competenze le abbia anche molto anche tante un ragazzo di vent'anni non mi vede come esempio a me mi vede come un dinosauro capito perciò c'è bisogno di un personaggio e lì c'ero io un personaggio come te che non ha vent'anni ma non è neanche 60 che però può guidarli certo e quindi si cambiano i riferimenti però tu puoi fare l'anello di congiunzione no e serve sempre questi anelli ecco non dobbiamo perdere questa catena qualcuno che porti avanti il messaggio ma che sappia che c'è dietro una storia se ce la vediamo così credo che sia una bellissima immagine siamo andati avanti nel discorso e abbiamo tralasciato una cosa di cui mi sarebbe piaciuto parlare che mi ha raccontato tutti e non mi ha detto di Angelo nel discorso dell'inclusività che a me con Angelo io ho avuto un bellissimo rapporto perché io e lui siamo arrivati insieme in Ibes arrivati insieme scusa io sono arrivati in Ibes e lui è iniziato a essere presidente in quel periodo sicuramente non è arrivato molto tempo prima di me però partecipando ai mondiali IBA facendo le competizioni con Ibes siamo stati spesso insieme quando abbiamo fatto una gara a Stoccard in una fiera ed eravamo in camera insieme perciò ci siamo conosciuti molto bene mi dispiace che adesso dopo Oscar Quagliarini il rapporto si è un attimo raffreddato però mi interessava sapere perché nel discorso dell'inclusività c'è c'è anche l'Ibes c'è anche allora io ho chiamato Angelo Donaiola proprio per raccontare questa novità dell'Ibes loro hanno fatto un concorso per i ragazzi con BES per adesso un concorso regionale in campagna e io ho fatto i complimenti perché a dispetto di quanto si pensi l'Ibes è sempre sul pezzo tanto da aver pensato un concorso anche per i ragazzi con BES e aver avuto quell'ironia di chiamare il concorso AI-BES quindi sono stati ironici sono stati attenti stanno provvedendo a quello che è il futuro del nostro settore ora non aspetta a me fare l'avvocato in difesa dell'Ibes non sono qua in questa veste però secondo me un po' tutti dobbiamo riflettere sul fatto che in generale AI-BES o non AI-BES un'associazione ha delle utilità tipo insegnare ai giovani degli standard io non lo trovo così sbagliato cioè le regole sapere che esistono poi puoi decidere di seguirle o non seguirle questo aspetta ognuno di noi però che esistano degli standard che esistano delle regole credo che anche nel flair sia la stessa cosa ci vuole disciplina poi tutti ci divertiamo però la disciplina è alla base del flair e così è il mondo del bartender insomma non siamo come vent'anni fa che lavoro vuoi fare ma non lo so vabbè vai a fare il barista che tanto non sai fare nulla questo era vent'anni fa e no servono delle competenze no? a me dopo cioè nel senso è passato un po' un messaggio sbagliato quando è uscito l'episodio di Oscar non voglio discutere di quello con te però dico e tante persone erano d'accordo con le cose che sono venute fuori però io perché ci sono stato io in prima persona perciò non dico che sono non dico cose per sentito dire dico cose perché io ho fatto parte di Ibes per 4 anni ho smesso di farne parte soltanto perché è iniziato la pandemia poi dopo succedono cose non ne so però io sono ancora dentro il gruppo Whatsapp di Ibes Emilia Romagna capito perciò non è che però cioè nel senso anche io ci tengo mi piacerebbe proprio parlarne con degli ospiti del far vedere infatti ho parlato con con Simone Mina ho parlato anche con il ragazzo che mi ha presentato con Gian Maria che mi ha parlato loro sono i ragazzi giovani che fanno parte dell'Ibes e che sta ovviamente cambiando però se ci la se i giovani si lamentano dell'Ibes allora io faccio l'invito entrate in Ibes in modo da dire la vostra ma io ho fatto uguale cioè perché anche io io quando sono entrato che lo dico senza problemi lo dicevo anche dentro Ibes che poi dopo mi hanno bacchettato di cercarmi però alcune persone infatti erano avevano avuto un attimo dei risentimenti nel senso che io mi sono presentato dicendo io sto entrando in Ibes perché vorrei partecipare ai mondiali IBA capito? e io non ci vedevo niente di male anche se avevo la mia idea dell'associazione non conoscendola e spesso persone più grandi dicevano quindi tu vuoi usare l'associazione per andare a fare per farti i fatti tuoi per fare la gara e faccio eh sì è l'unico modo che ho per poter fare i mondiali IBA però poi non deve essere proprio questo secondo me deve essere più fattivo adesso te lo finisco e però poi dopo entrando vedendo com'è soprattutto conoscendo Angelo perché in Emilia Romagna io ho vissuto anche il cambiamento io tra virgolette di IBA nel capirmi nel capire me perché io sono arrivato la divisa non me la metto io così non mi vesto capito? sono arrivato così mi ricordo quando ho vinto il mio primo nazionale che c'è stato proprio un cambiamento che all'inizio mi ha fatto cambiare ancora di più mi ha fatto peggiorare ancora di più l'idea perché eravamo al Cronprasa di Roma ho fatto la mia gara e passo tra questi tantissimi tavoli che ogni regione ha il suo tavolo e nessuno mi considera capito? nessuno poi dopo vinco la gara e tutti grande Carmi capito? allora mi considerate perché ho vinto la gara del Flair capito? però invece poi nel tempo soprattutto conoscendo Angelo soprattutto stando a contatto con le persone dell'Emilia Romagna perché facevo parte con la sezione lì ho visto che invece la voglia di cambiamento c'è la voglia di ma non tanto di cambiamento la voglia di andare a stare al passo coi tempi perché mi ricordo quando sono arrivato io la gara di Flair praticamente dovevamo noi quei tre ragazzi quei tre come si chiamano quelli della regione i consiglieri non i consiglieri i delegati quelli lì interessati al Flair loro e noi competiti dobbiamo organizzarci la gara da soli ok? all'inizio era così però poi nel tempo Angelo che stiamo insieme mi fa Carmine in che modo possiamo far venire più ragazzi giovani nell'Aibes che fanno Flair capito? comunque vedevo tanta apertura e ascolto soprattutto da parte sua esatto c'è tanto ascolto ma poi allora io sono stati tre giorni al nazionale l'Aibes a Roma a novembre si divertono cioè si crea un bel clima una bella comunità quindi io direi ognuno di noi nel suo piccolo può fare qualcosa limitarsi a dire questa cosa non mi piace non fa bene a nessuno quindi o fattivamente si fanno le cose oppure si cerca di conoscere più da vicino le realtà per capire perché di determinate cose questo che tu sia un giornalista un bartender o un podcast e soprattutto o un campione come sei tu e soprattutto poi questa cosa me l'ha detto Simone Mina che mi ha fatto anche aprire di più la mente mi fa tu mi hai detto prima anche che essendo un'associazione Simone Mina mi fa appunto perché è un'associazione bisogna far andare d'accordo persone che vanno dalla Valle d'Aosta all'ultima punta della Sicilia e culturalmente sono diverse chi vive in cima alla montagna in Valle d'Aosta e chi vive praticamente in mezzo al mare in Sicilia e trovare anche un modo di far andare tutte queste cose richiede più tempo quindi è anche più difficile essere al passo coi tempi in tante cose e questa è un'altra cosa che mi ha fatto pensare che mi ha fatto pensare molto anche anche a quello però poi dopo io conosco e ho conosciuto persone come Samuel Ambrosi che di Samuel Ambrosi tutto si può dire tranne che non è uno al passo coi tempi appunto sì quindi voglio dire ci dobbiamo magari non conosciamo bene le realtà e ci limitiamo a dire sono d'accordo con chi la pensa in modo diverso sì cioè tipo io sono super d'accordo con chi la pensa così però sono anche dell'idea del fatto che invece bisognerebbe conoscere esatto capito conoscere se non ti piace qualcosa magari fare in modo di portare dei contributi chiunque può dare un contributo quando sono arrivata a Mixer che ho un po' rivoluzionato tutto però non sono arrivata dicendo adesso si fa così perciò mi sono data del tempo per cambiare il giornale e faccio l'altro spot così abbiamo chiuso che ad aprile esce il nuovo Mixer mi sono data del tempo perché ho voluto ascoltare le persone che già lavoravano a Mixer da tanto tempo e capire quali erano i valori ed aveva tantissimi valori che non dovevano andare persi con delle novità che sono il mio contributo quindi ciascuno di noi può sempre dare il contributo alle cose mai limitarsi a dire tanto non cambia non per parlare tutto il tempo di Ibes però fa parte tanto della storia di questo ambiente e so che tu sia con Mixer ci collabori anche prima con Bargionare ci collaboravi e poi anche perché negli anni soprattutto andando indietro di anni era l'unico punto di riferimento però era l'unico modo anche per chi faceva parte dell'ambiente di ritrovarsi in quello che magari meramente era solo una competizione però alla fine era sempre un modo di incontrarsi e di mettere di far incontrare anche persone come tu ho appena detto dalla Valle d'Aosta alla Sicilia ci si trova e ci si scambia anche opinione ma tuttora è così tuttora è così si incontrano si divertono si passa la serata insieme perché poi dopo il lavoro dopo la competizione quindi tutta la tensione che ci può essere durante una competizione poi ci si ritrova tra amici si mangia insieme perché poi siamo anche fortunati nel nostro lavoro ci sono degli aspetti di convivialità meravigliosi e quindi si sta insieme magari si fanno le ragazzate come quando si va in gita alle superiori ci si ritrova tutti nella stessa camera per bere qualcosa insieme quindi è ancora così è tuttora così e mi hai parlato di Danilo Bellucci prima io qua mentre mi parlavi io di solito mentre un ospite mi parla e qui ci ho aperto le cose vado sembra che mi faccia i cazzi miei invece vado a vedere le quando ti dicevo che non bisogna perdere la memoria di quello che hanno fatto le persone forse Danilo Bellucci è l'esempio in carne ed osta Danilo Bellucci ha creato format come Lady Drink 110 e Lode Challenge on Ice cioè è chi ha creato i primi eventi attorno al nostro mondo i concorsi sono nati con Danilo Bellucci infatti non lo conosco però penso di averlo incrociato a qualche nazionale aibes forse sì anche lì sicuramente l'hai trovato è passato anche a Mixology Experience e Danilo è un campione di umanità innanzitutto ma anche un signore cioè tu chiacchieri con Danilo Bellucci e in cinque minuti riesce a capire qual è l'ospitalità quali sono le regole dell'ospitalità lui conosce tutti gli hotel 5 stelle d'Italia e non solo tutti gli amici e tutti i bartender sono amici di Danilo Bellucci proprio perché negli anni Lady Drink è arrivata alla 27esima edizione penso un po' di cosa stiamo parlando 30 anni fa Danilo Bellucci già faceva le competizioni per bartender e tutti noi eravamo ancora sgarzodenti tu tu all'elementare addirittura con la maestra che mi insegnava l'italiano con la maestra Luisa e niente una sull'ospitalità proprio è un discorso che mi trovo sempre a fare con con gli ospiti che vengono qual podcast del fatto che gli italiani hanno sempre una marcia in più in questa cosa l'italianità nel senso si vede se vai in qualsiasi posto nel mondo che faccia parte dell'ospitalità che sia bar ristorante dentro un italiano c'è sempre ok sì è vero non so se ce lo ricordiamo sempre questa cosa nel senso che quello di cui mi trovo a parlare spesso qua cosa che mi fanno sempre presente gli ospiti quando gli faccio fare dei drink nell'episodio che c'è di solito il giovedì è che spesso ovviamente stiamo facendo i drink quindi si vedono quelli però tanto spesso ci tengono a puntualizzare il fatto che adesso si fa tanto una ricerca sul drink si cerca di ne parlavo proprio nell'ultimo episodio che tu da un drink la moda che c'è adesso in questo momento è di togliere siamo arrivati a togliere talmente tanto dal drink che ci abbiamo tolto anche il colore esatto capito quindi è diventato tipo questo bicchiere oggi già non è più di moda perché ha questi segni capito quindi togliere i segni bicchiere neutro ghiaccio neutro drink liquido neutro all'interno liquido neutro quindi siamo arrivati a togliere 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 e però deve esserci cioè il togliere così tanto deve avere un valore nel senso che deve esserci tutto glielo devi raccontare devi riempire tutto il resto glielo devi raccontare e lo storyteller è difficile da trovare quindi che sia italiano o meno no? infatti qui avevi scritto il bar fuori classe e lo storyteller quindi ti volevo chiedere proprio arrivare a chiederti perché secondo me il racconto oggi è importante e fa parte dell'ospitalità però a volte non focalizziamo la cosa no? quindi ci concentriamo sulla tecnicismo sulla perfezione del cocktail e lì davanti abbiamo un cliente che magari è lì che vuole da te dei consigli o come stiamo facendo di te vuole chiacchierare gli va bene qualsiasi tipo di cocktail ma vuole te come persona e non ce ne accorgiamo non ce ne accorgiamo quindi quel valore dell'ospitalità italiana ogni tanto lo perdiamo invece va recuperato no? vent'anni fa si diceva il sorriso è importante in quella parola sorriso è un po' raccolto il concetto dell'ospitalità no? quell'accoglienza che è inclusione che è valorizzazione delle delle differenze che è capire un cliente che hai di fronte che magari in quel momento non ha bisogno di avere un cocktail perfetto ha bisogno di un cocktail che sia una coccola e tu bartender che sei un po' psicologo lo capisci parli questa cosa la collego spesso al che a me capita a me capita spessissimo perché ti collego con un'altra cosa che poi ti chiederò dopo me la scrivo qua scrivo una cosa che me la ricorda e che mi capita spesso al lavoro perché io continuo a farlo nel weekend perché posso permettermi di farlo solo il weekend continuo a lavorare e questa cosa mi dici che a volte il bartender si rende conto di che cosa hanno bisogno le persone quando loro che magari loro ancora non lo sanno che mi capita spesso di vedere qualcuno che magari deve buttare via qualcosa o un pezzo di carta o al chewing gum o la caramella o cose del genere e poi dopo io sono lì già così col fazzolettino e te lo danno così oppure nel prendere il drink che spesso capita quando la persona prende il drink e per abitudine gira un po' il bicchiere e quando lui già sta muovendo gli occhi per cercare un tovagliolo o qualcosa tu sei già lì col tovagliolo col tovagliolo pronto sono gesti importanti e se noi andiamo a vedere un Edoardo Nono al suo Rita piuttosto che i tanti bravissimi bartender che ci sono impariamo questo impariamo questo quindi un po' meno essere concentrati solo ed esclusivamente sulla tecnica che deve essere deve far parte di noi serve a noi bartender in questo caso conoscere ma al cliente finale serve la persona serve la coccola serve il racconto ma non il racconto tecnico il racconto magari di come ci sei arrivato a quel cocktail cito cito Filippo Sisti che mi ha che mi ha detto una cosa mi ha detto una cosa a me che io ho fatto un commento e lui mi ha mi ha risposto in un modo che mi ha fatto capire tanto proprio per proprio nel parlare della cioè tipo io dico Filippo Sisti e quindi si pensa già subito all'estremo all'impossibile capito e invece Filippo poi mi fa mi leggo al discorso che mi fai tu del fatto che uno può essere intrattenuto vuole far parte di qualcosa che io dico Filippo io quando perché con lui faccio un episodio al mese in cui mi porta un drink al mese dico Filippo io però vorrei portare qualcun altro più esperto quando ci sei tu a farmi il drink perché io non mi sento pronto per poter giudicare o capire i tuoi drink e lui mi fa Carmine se tu il mio drink non lo capisci sto sbagliando io capito esattamente e quindi una presa di sensibilità così da parte di che tu magari personalmente non lo conosci però conosci che uno magari personalmente non lo conosce però tipo conosci di nome Filippo si ti dici è tutto è un'estremizzazione pazzesca quindi è ovvio che non capisci e invece lui subito ti dice se tu non capisci questo drink vuol dire che sto sbagliando io qualcosa esattamente nonostante ci sia non possiamo pretendere che il cliente conosca il fat washing o il milk washing e che tu gli ho fatto questo e che magari si esalti su questa cosa cioè non si può però magari quel sapore che ritrova gli ricorda una merenda di quando era piccolo gli si illuminano gli occhi quello è aver colpito nel seno infatti non mi ricordo chi forse non voglio sbagliare il nome quindi non lo dico però comunque un ospite che mi ha fatto un drink che ricorda la pignacolada però ovviamente c'è abbiamo tolto il colore abbiamo fatto la sfera abbiamo fatto abbiamo un cubo comunque super lavorato però partendo mi dice abbiamo rivisto la pignacolada perciò per uno mi dico io io che non capisco che non ne so niente dico nella mia testa c'è la pignacolada capito e il drink poi lo capisco esattamente questo esattamente questo e dobbiamo riprendere in mano questo questo discorso perché da qui parte l'ospitalità è uguale adrian christian non so se lo conosci ragazzo del dialogo di brescia sì che non personalmente però lo salutiamo un personaggio assurdo che tra l'altro io ho fatto un appunto proprio a lui ho detto io dopo averti fatto come ospite l'anno scorso ho visto cioè mi dispiace perché dopo averti conosciuto ho visto nell'ambiente quanto sei rispettato quanto veramente ci sai fare quanto sei veramente un professionista e lui mi ha portato un drink tra l'altro ho parlato ho parlato proprio con con Giacomo Diamante del fatto che lui tra poco aprirà un locale stile anni 50 60 70 e però tutto riporta a quel periodo anche i drink che fa anche il tipo di bicchiere che tipo porta dei bicchieri proprio con la parte gialla la parte gialla proprio ricordo proprio quegli anni tutto fatto apposta e mi ha parlato del fatto che un drink deve comunque rappresentare tutto quello che è il locale se tu presenti un drink che segue il tempo di oggi che è bicchiere neutro ghiaccio neutro tutto neutro e lì ho collegato subito su Adrian che mi ha parlato che mi ha detto cavolo però quei drink lì tipo se tu al bar della stazione fai quei drink lì capito non è e invece nel suo locale quei drink sono proprio perfetti dal racconto e l'ho collegato dopo però questa cosa dopo che Giacomo me l'ha detto se noi pensiamo al cocktail come banalmente una miscela di ingredienti secondo me sbagliamo il cocktail rappresenta è un progetto un progetto che deve rispecchiare quella che è l'idea del bartender l'idea del locale e che in qualche modo interagisce con la tua clientela quindi un cocktail in un determinato bar funziona perché è studiato per quel tipo di clientela e in un altro magari non funziona è un po' la difficoltà che abbiamo noi quando dobbiamo scrivere un articolo ed essere attenti a dire questo funziona funziona non in assoluto nulla funziona in assoluto ognuno di noi deve fare i conti con quello che è il proprio posizionamento la propria clientela il messaggio che si vuole dare è complicato e su questo ritorno al drink che Adrian infatti ha fatto un drink con una super preparazione che richiede mesi e cose varie che lui si prepara che lui ha tutto quanto nel locale con mesi di tempo se lo prepara però mi fa in questo drink qua io ho voluto riprendere quello che è il Ferrero Rocher ok perciò già nella tua testa hai quell'idea hai il Ferrero Rocher che poi lui ti fa un drink con il cubo con sopra il cubo questo cioccolatino che lui riempie con purea di ciliegia in italiano si dice tantissima frutta io me la ricordo soltanto in inglese e quindi la devo tradurre di ciliegia ed è a me il Ferrero Rocher non piace ok fa proprio schifo però bevo questo drink tu mangi il cioccolatino in bocca proprio tu pensi cioè tipo se ti guardi pensi di guardarti ti vedico Moscheri però se c'era la ciliegia si Moscheri scusa Moscheri ho sbagliato il nome e nella tua testa guardandoti ti immagini che hai la bocca piena così perché ti mangi questo cioccolatino con la purea che ti riempie proprio e bevendo il drink ti dà esattamente quel gusto e con Adrian a me è capitato in due cose che c'è un altro discorso che ti voglio fare che mi ha fatto mangiare quello lì che a me Moscheri a me non piace e invece bevendolo era buonissimo mi ha fatto mi ha fatto bere un altro drink con sopra la foglia quella foglia mi dimentico sempre i nomi quella foglia che è tipo ostrica la foglia di ostrica la foglia di ostrica che infatti il presidente fa questa foglia ti dà proprio il gusto di ostrica e mi dico oddio adesso vomito perché io non mangio pesce mi fa proprio mi dà proprio volta stanno è particolarissima invece e invece bevo questo drink con la foglia di ostrica sopra la purea di passion fruit bevo il drink buonissimo e qui c'è un discorso super interessante che a me è capitato proprio personalmente perché a me tantissimi gusti non piacciono invece tantissime cose bevute aromi o gusti in un drink invece che in un piatto ci piacciono Melfam ha fatto un drink al peperone quando mi ha detto peperone nella mia testa oddio oppure il gin tonic a me non piace la tonica Beppe Mancini Milo Kipiti mi hanno fatto dei gin tonic e invece tutti quanti per ora non ho ancora mai bevuto un drink che non mi piacesse bene vuol dire che sanno fare bene loro lavoro però dico come cambiano però i gusti passati da un piatto e invece messi e beh abbiamo consistenze innanzitutto diverse volatilità diverse quindi può darsi che l'insieme poi il gusto è sempre un ricordo cioè l'aroma è sempre un ricordo quindi magari il drink ti richiama dei ricordi diversi che ti piacciono di più allora qui mi ero scritto un 20 qua che è un discorso che mi ha fatto sempre un altro io praticamente prendo tutti i discorsi degli ospiti e creo discussioni un ospite mi ha detto che lui si tiene a contatto con i ragazzi di 20 anni appunto perché lui vuole sapere i ragazzi di 20 anni adesso cosa vogliono cosa cercano come sono per capire poi cosa sarà certo capita anche a te di magari cercare di capire i giovani o seguire o ascoltare i giovani bartender assolutamente sì sì assolutamente sì cioè devi fare così altrimenti hai perso nel senso che soprattutto nel mio lavoro se perdi il contatto con i giovani stai sbagliando vuol dire che stai facendo un giornale morto perché non stai creando quella community attorno al giornale che deve continuare dopo di te anche semmai quindi i giovani sono fondamentali poi ho una figlia di 14 anni che mi riporta continuamente alla realtà dei giovani anche in modo piuttosto traumatico aggressivo ma a me fa solo piacere confrontarmi con lei con i bartender un tempo c'era un tempo in cui io ero giovane e chiamavo i bartender che erano più anziani di me quindi c'era tutta quella timore oddio adesso devo chiamare il maestro eccetera adesso è il contrario sono la parte la senior che chiama i junior però mi diverto a me pensa proprio venendo di apprendere in stazione ho fatto un'altra riflessione sulla mia vita perché ho pensato al fatto stavo ascoltando la zanzara in macchina e non mi ricordo che cosa mi ha fatto pensare a questo e dentro di me nel venire a pendere dicevo cavolo però quanto era bello quando avevo 20 anni capito che nel senso delle cose che vivevo delle cose che facevo e poi mi sono detto però quando avevo 20 anni non rimpiangevo quando ne avevo 10 capito perciò è una cosa che magari può aiutare anche chi ascolta a non vivere tanto nel cioè tipo io adesso ho 30 anni se passo i miei 30 anni rimpiangendo quando ne avevo 20 a 40 mi renderò conto che avrò vissuto i 30 anni rimpiangendo di averne 20 e non vivendo i miei 30 anni certo capito no vivere la vivere la propria età è fondamentale no io sono felicissima dei miei 55 anni adesso te la svelo la mia età ho cambiato lavoro proprio perché amo questo il lavoro che faccio volevo nuovi stimoli volevo fare cose nuove nel momento nel momento in cui tu continui a trovare stimoli e sperimentare cose nuove non c'è tanto tempo adesso c'è un discorso che mi piacerebbe avere il tuo punto di vista che è una domanda che faccio spesso agli ospiti del cambiamento che c'è stato soprattutto adesso a me piacerebbe parlarne sempre di più appunto per sensibilizzare questa cosa del bisogno nella nella formazione che c'è adesso all'interno del nostro ambiente perché diciamo che i tempi sono cambiati io ho iniziato relativamente poco tempo fa 2009 2010 però il corso che ho fatto io a oggi non è più aiuta serve per forza perché ti dà le basi per imparare però adesso un ragazzo ha bisogno anche di altre cose nel senso che uno che inizia e infatti ci sono realtà come cito questo perché ci sto parlando proprio in questi giorni perché vorrei portare il loro format e parlarne tipo i ragazzi di Percento Lab dico magari la vecchia concezione di scuola come magari quando ho iniziato io era Planet One che te ne ho parlato prima adesso magari non funziona di più e adesso invece ci sono realtà come Percento Lab che invece sono più al passo coi tempi che nel senso sono più indicate al mondo di oggi della nostra del nostro ambiente allora Percento Lab stanno facendo un lavoro incredibile le abbiamo citati prima io non credo che sia così semplice scelgo questo o scelgo questa scuola quello che è certo è che serve la formazione quello che è certo è che servono le competenze tecniche serve anche un po' di management l'abbiamo detto prima l'ospitalità è complesso devi considerare aspetti diversi oggi come oggi l'offerta formativa è vasta quindi il consiglio che io mi sento di dare a te e a tutti i nostri ascoltatori è più quello di innanzitutto aver ben in mente che cosa devo voglio imparare no? in che cosa mi voglio specializzare dopodiché cercare quella offerta formativa che è più vicina alle tue esigenze ma insistere continuare cioè che non basta un corso ho fatto il corso ok sono il talento vado vinco i campionati e torno no mettersi lì e essere sempre pronti ad aggiornarsi a studiare a leggere ad andare alle fiere tutto fa formazione e perché proprio per questo mi sono trovato ovviamente a parlarne con Bruno perché abbiamo parlato della struttura nuova mi sono trovato a parlarne con Giacomo Diamante anche del stai citando tutte persone che hanno delle scuole meravigliose sì perché infatti Giacomo mi ha detto proprio che lui da sempre ha differenziato il suo modo di fare formazione tenendo conto prima cosa della soglia dell'attenzione che si è drasticamente abbassata del fatto che magari non funziona più un corso con dentro tutto che dura due mesi funziona di più un corso che dura un giorno in cui fai solo la fermentazione capito e così di varie cose uno poi prende anche quello che quello che poi più gli interessa su cui più si vuole specializzare e lo porta perché l'esempio che faccio io l'esempio che faccio io spesso per perché poi io non ho la soluzione però io penso di aver visto un problema nel senso che io faccio io ho fatto il corso nel 2008-2009 dopo andavo a lavorare in discoteca quello che ho imparato nel corso era perfetto per mettermi sui binari giusti per imparare a fare il mio mestiere e poi crescere poi dopo facevo il corso di mixology che mixology facevo sferificazione le arie il drink solido e cose varie il caviale tutte queste cose qua adesso invece un bartender che magari fa lo stesso corso che ho fatto io poi si ritrova parlo soltanto della tecnica non parlo della parte dell'ospitalità parlo soltanto della tecnica un ragazzo invece che inizia adesso poche volte si ritrova a dover andare in discoteca all'inizio e ha bisogno di skills o di conoscere cose che però nel corso non ci sono guarda tutte le tutte le preparazioni che si fanno adesso quello che abbiamo parlato prima di togliere togliere tutte cose che capite però Carmine se parliamo di un ragazzo che si avvicina alla professione secondo me prima di arrivare a togliere 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 devi imparare a mettere 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 impariamo le basi però dico poi tu se ti ritrovi in un locale che lavora in un certo modo hai bisogno di un po' di tempo per entrare dentro il meccanismo e quello avrà il tempo però quello che impariamo le cose fatte bene subito cioè il negroni che è i classici bisogna saperli fare le cose se bisogna partire dalle cose semplici dopo hai tutto il tempo tutta la vita per studiare le fermentazioni per fare kombucha per fare ciò che vuoi ma non puoi destrutturare se non conosci quello che stai andando a destrutturare questo vale in cucina e vale per i barbetti e mondo fiere invece mi sono reso conto anche del del cambiamento che hanno avuto le fiere nel tempo nel senso che questo è un discorso che ho fatto spesso una volta la fiera era cioè nel senso un'azienda fa la fiera perché dopo la fiera fanno il punto dall'azienda dalla fiera abbiamo recuperato tot contatti tot contratti ok in cui ci ritroviamo con i con i con i vari partner oggi la fiera mi sembra di più a mio avviso poi dopo poi dopo magari è sbagliato dal mio punto di vista mi sembra un punto di più in cui devi esserci e far vedere chi sei cosa proponi perché se non ci sei vuol dire che non esisti ok magari essendo un punto di ritrovo così essendo un punto di ritrovo un po' per tutti la presenza in fiera è più legata all'esistere che al che all'avere risultati come prima no nel senso una fiera è molto costosa per le aziende perché andiamo un po' a guardarla dietro l'allestimento di uno stand tutte le persone che girano intorno alla fiera quindi ha un costo si parla di budget molto alto importante quindi dubito che un'azienda possa partecipare a una fiera solo per sì devo esserci per esserci fa parte di una strategia e che deve portare a dei risultati che poi siano contatti che poi vengono seguiti e si tradurranno in un domani in contratti io non credo che un'azienda possa partecipare alle fiere solo per immagine magari è il pubblico sono i visitatori che a volte si va alle fiere o si partecipa alle masterclass per immagine per dire io c'ero io ci si fa i selfie con i personaggi importanti quindi credo che sia più da parte del pubblico essere lì per dire io c'ero ma non sicuramente le aziende almeno questa questa è la mia idea può essere sbagliata non sicuramente le aziende detto questo tu sei stata la prima tra virgolette a chiedermi a farmi entrare in un certo in un certo ambiente ok mi interessava sapere all'interno di questo ambiente come è stato visto perché poi mi piacerebbe parlare anche di altri però altri non ce ne sono che fanno quello che sto facendo io ce ne sono altri però che non non nel nostro settore sì perciò il mondo podcast è praticamente ovviamente parlo solo di me perché ci sono solo io per il nostro ambiente come è visto un po' all'interno della allora è visto con tanto con tantissimo interesse non cerco complimenti mi interessa proprio no no è visto con tantissimo interesse il podcast rappresenta un'opportunità perché comunque se stiamo alle statistiche le persone che leggono sono sempre meno mentre gli audible così si dice gli articoli audible sono sicuramente più utili tu mi hai chiesto di non farti complimenti invece io te li faccio comunque perché hai questo studio ragazzi è spaziale è bellissimo cioè hai ti sei organizzato con l'attrezzatura giusta perché poi la tentazione qual è ci vuole ho il telefonino il mio iphone fa qualsiasi cosa prendo registro e è fatto il podcast e se fosse così semplice non staremo lì a spensarci no il podcast ha bisogno non solo di risoluzione vabbè ma questo sei tu il maestro quindi da racconta tu di che cosa ha bisogno di un podcast in realtà è la qualità poi no del contenuto del contenuto che che è importante ma la qualità del contenuto deve essere aiutata anche da una dai buoni ma è dai buoni mezzi quindi lo guardiamo con interesse e ti seguiamo con interesse allora il mi interessava chiede poi adesso ti lascio andare che ti ho rubato anche troppo tempo no perché più che altro si addormenteranno chi ci ha scoperto no no nessuno si lamenta dei tempi tranquilla la tua storia è interessante se no non ti avrei chiesto di partecipare hai vissuto anche tu tu hai vissuto anche il cambiamento che è all'interno del nostro ambiente di prima cosa hai vissuto l'arrivo di Planet One che io con Planet One intendo l'arrivo dell'American Bar quindi che si è iniziato a lavorare in un altro modo si è iniziato a lavorare più velocemente si è iniziato a standardizzare in un modo diverso da quello che prima era la giacca bianca i guanti bianchi e poi dopo c'è stato un altro cambiamento ancora tipo 2012 2013 sì quello che è il cambiamento vero è stato in quegli anni lì 2000 sì 2010 2012 quando si è iniziata a guardare al mondo del bartending con un interesse completamente diverso quasi un mondo glamour fateci caso prima parlavamo di cocktail appunto mixer bar giornale dopo il cocktail è diventato di moda oggi il cocktail è di moda quindi ci sono testate giornalistiche rivolte ai consumatori che scrivono di ricette i libri di ricette di cocktail si vendono e diventano best seller la gente impazzisce e si fa i cocktail a casa questo con nostro dispiacere più gente fa i cocktail a casa meno vanno fuori ma il fenomeno dei ready to drink o ready to serve anche a domicilio sono tutti fenomeni che sono tutti segnali che ci dicono quanto sia glamour il mondo del sta cambiando anche la cultura nel senso sta cambiando la cultura sta cambiando la cultura oggi sicuramente un consumatore medio un cliente medio conosce un po' di più di cocktail così come conosce un po' di più di caffè perché se no parliamo solo mondo cocktail è cambiato tutto il mondo bar ci siamo specializzati oggi quello che un tempo si diceva il bar rossi per dire un bar senza né arte né parte quello classico oggi quasi non esistono più ognuno ha la sua specializzazione è cresciuto tanto l'interesse dei media è cresciuto anche un po' l'ego di il bartender questo se vuoi puoi tagliarlo sto scherzando no ma è vero non c'è niente di male siamo siamo cambiati quindi una rivoluzione poi anche nei menu nell'offerta sicuramente oggi scrivere di bar è molto molto divertente più a pilla anche e dimmi invece del primo cambiamento quando è arrivato l'American Bar come è stato allora lì era un po' più giovane quindi parlo di 99 2000 ecco adesso va bene che ho vissuto il cambiamento ma l'ho vissuto sempre diciamo non così in prima persona no però sicuramente passare dallo stile del grand hotel molto più affettato all'American Bar dove si iniziava divertirsi lanciare cose lanciare cose mi ricordo di un festival bar in cui c'erano le Cowgirls sul sul bancone cioè era tutto un mondo estremamente divertente estremamente divertente che cozzava invece con le regole l'eleganza di prima tutto questo poi si è messo come fosse messo insieme a partire dal 2013 no? siamo ritornati magari a quell'eleganza quella appeal del grand hotel ma con quella nota divertente tu l'hai vissuto? l'ho vissuto perché io sono partito in cui c'era queste due grandi macro famiglie agli opposti flair o mixology il discorso che ho fatto proprio a Luca Cinali che ho avuto il piacere di con cui ho avuto il piacere di parlare a mixology experience che dico io mi ricordo quando c'era questo periodo in cui eravamo uno il bene uno il male visto da per qualcuno questo era il bene per qualcuno questo era il bene però io mi ricordo quando io invece iniziavo che ero ovviamente da parte del flair però io vedevo i video di Luca Cinali dicevo ma guarda è un flair bartender cosa c'è? cioè guarda come si muove guarda come scegare guarda come fa sta facendo flair tutto il tempo perché deve essere tutto diviso poi il mondo delle competizioni ha anche aiutato tanto a mettere insieme le cose e si è creata questa cosa bellissima di cui io ringrazio perché sono stato fortunato di trovarmi cioè nel momento in cui io faccio le competizioni in cui io in prima persona mi stavo formando per necessità per poter competere ho dovuto mettere insieme le due cose e sono molto felice e mi piaceva tanto anche questa cosa sì 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 questa sintesi va fatta certo ogni mondo ha le sue regole quindi ancora oggi negli hotel esistono degli standard diversi conoscere i vari aspetti può aiutare poi a definire anche il proprio stile mi sono trovato a parlare con una ragazza con una signora che lei fa la mental coach che è passata da Mixology Experience e a lei le ho chiesto i vari tipi di approcci che può avere con i vari tipi di bartender che ci sono oggi perché da lei ho detto c'è il bartender che diventa imprenditore c'è il bartender che fa il bartender che fa parte di una brigata e c'è poi questo essere strano che è proprio l'ultimo tipo di bartender che esiste che è il bartender star ok che è il bartender che ha la sua che ha la sua immagine in cui che cura proprio la sua la sua immagine e quindi a lei ho chiesto in che modo un mental coach può aiutare in questo modo invece dal punto di vista tuo giornalistico questi tipi di bartender come li vedi come li prendi allora devo essere sincera a me interessano i primi due cioè l'imprenditore e il bartender che lavora che lavora in prima persona che attenzione non è detto che non possono essere neanche persone di riferimento per il nostro settore persone famose non in un giornale trovo poco utile dare spazio a esercizi di stile di un bartender che vuole solo immagine io devo dare consigli devo ispirare mi servono dei buoni modelli sinceramente io preferisco quindi l'imprenditore e il bartender che lavora in brigata so che è solo una maglietta però per me è un grande passo iniziare ad avere le magliette quindi mi fa piacere visto che tu hai contribuito posso l'apro così la vediamo tutti meravigliosa per ringraziarti per lo spazio che mi hai dato ti ringrazio molto te ne sono grato è il mio colore preferito è il mio colore preferito anche il mio volevo mangiarti in una maglietta so che non è gran che però per me è una grande cosa per me è un grande è un grande onore e il fatto di averti dato spazio su mixer è quello che dicevo prima a me interessa i bartender che fanno gli imprenditori i bartender che lavorano in brigata persone in gamba quindi lo spazio te lo sei meritato ti ringrazio ti ringrazio prima cosa per il tuo tempo che mi hai dato oggi perché io una cosa che ho capito proprio facendo questa cosa è che quanto valore ha il tempo quindi grazie mille grazie a te adesso non faccio l'errore di prima e ragazzi che dire questo era un nuovo episodio del podcast del bartender ringraziamo tantissimo Rossella per averci per aver fatto di chiacchiere con noi ci vediamo alla prossima ciao ciao